Ciao a tutti volpini e volpine e ben ritrovati con questo nuovissimo video, benvenuti nel primo video del 2021 Beh in realtà si doveva essere questo il primo video dell'anno, però sinceramente questo qua doveva essere un video che dovevo cancellare Ma in realtà dopo ci ho ripensato e ho continuato la parte e adesso vi lascio il video Il mio canale è House on a Hill, facciamo sì per iniziare un nuovo gioco, un giochino abbastanza carino Ok, vediamo com'è la trama, com'è si sviluppa, questa qua già si mette l'auricolare bluetooth per comunicare Mi senti? Bene, a posto Ciao Frankie, da posto Sì, sì, sì E dimmi quello è il mio lavoro Molto semplice Ok Secondo lui è facile C'è una camera accanto, non ho capito bene Questa qua, ok, la piccolina Così posso muovere Con questo giocattolo non posso fare nulla Qui mi dice che questo è il primo giocattolo che ho comprato per il mio figlio Allora, secondo me è semplice, entro in questa casa, prendo quel che devo prendere e me ne scappo Ma secondo me sarà diverso da così Questa qua si apre Il gioco, ok, vedete Ok, c'è un sistema d'allarme nell'assenza nuova Devo trovare i cavi e tagliarli con il cacciavite Cioè, devo aprire la cosa, la scatola con il cacciavite Dice che qua, in questa foto di famiglia Loro sono veramente felici E che sperano che in futuro possano prendere Molte più foto Qua dietro non c'è nulla molto interessante Il cabinet over the table Ok Perché una traduzione in italiano non c'era? Certamente Qui non c'è nulla Mi sa che quello che non cerco io Non c'è manco nulla, è interessante Ecco qua, c'è il cacciavite Ah, mi sa che questa qua è una prova Questa qua non occupa il sistema d'allarme Che c'è quella cosa nuova C'è che se condurre Questo qua è la sua opera d'arte Devo togliere le viti E ho bisogno di vedere bene Come faccio questo lavoro Ok, lo faccio con molto piacere Pasta che dopo Mi fa andare all'azione Non devo toccare per nessun motivo al mondo Quello bianco Solamente quello blu devo tagliare Oddio, che difficile Che è? Ok Ricordatevi che il bianco non si taglia mai No, spento Ok Prendiamo l'auto allora Bene Per quanto gioco sono Bastillare così A me piacciono Speriamo che Se vi piace Io lo possa continuare Così che lo finisca in poche puntate Perché secondo me sono poche puntate Ok Questo qua è un cancello Apriamolo Dietro di me non c'è nulla Purtroppo questo qua È una classe che gioca come gli altri Giochinti Che hanno il framerate K8-62 Cioè Bloccato a 62 Non sono andato In giro a vedere guida e cose Per sbloccarle Ok, sì È veramente un ottimo Posto Sì, sì, sì C'è un gioiello chiamato Cuore della nebbia Non lo possiamo tornare indietro Se qualcosa va male Mi faccio a quanto di tradurre Il più velocemente possibile Io pensavo Devo andare qua Perché ci sta una badina Questa cosa Che qui non Non c'è nulla Ok Il gioco va fruto Però È malottimizzato Alle volte Ok, qui c'è sistema Dall'anno Questo qua rosso Oh no, questo qua Ok, solo il blu Ok Ando un po' a sinistra Perché c'è la testa della meccanica E faccio ogni volta È molto sensibile il tasto Quindi Ok Eh, c'è un problema Qua c'è il viole Il bianco Il verde Il giallo Ma lo devo tagliare O è blu Questo lo vedo male Mi sa che è rosso Eh, non ci sta il blu Non ci sta Non ci sta Eh Contro la linea Non c'è segnale Della polizia Eh, se non ci stava Il blu Ok Eh, ma Mi sto cadendo Addosso Sinceramente Ok Devo andare anche senza Avviciniamo la porta Sì Nessuno l'avrebbe mai fatto Tronde me Penso Ok Ok La cucina Ok Qui è attraverso l'ufficio Prima Qui non ci possiamo andare Ok Qui non ci sta Nessuno Vero? Gli sta un quadro Molto inquietante Bella l'atmosfera C'è una luce dietro la porta Ma amico mio Io non lo so Il tizio qua non corre Va piano Depende il suo tempo Qui non Eh Ah, mi devo perdere Eh È un modificio Quella porta là Mi sa Ok Questa qua è la cucina Ok Oh mio dio Ma che c'è sta qua dentro Oh mio dio Ma sta cucina Veramente È orribile Ma che cazzo Ci abitava Qui sto a un voglio Qui sto a una ricetta Per la costruzione Dei materiali Ok Ha fatto un salvataggio È andato qua dentro Mi sa che non ci sta Più nessuno Eh Mi sa che Si è dimenticato Veramente di pulire Oh Che cazzo è stato Mio dio Ok 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 Oh mio dio Di vero Si 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 Mi sa che Se io sento questa Va a funzionare qualcosa Però Io non c'ho Come dice qua La videocassetta Il gioco sta laggando Mi sa che la videocassetta È qua dentro Buonasera Si può Si Dopo spegniamo qua Oh mio dio Questo è un anello Però non lo prende Ma allora che cazzo Sei venuto a fare Se non lo prende Ma quando ci sta Cioè Ne ci sta nulla da prendere C'è una chiave Oh Oh No 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 Cavoli Ok Devo andare qua Eh Ci sto ancora vola Come si apre l'inventario Questa qua Questa qua voglio usare Ok Non si può utilizzare Mi sa che dobbiamo tornare indietro Sì Mi sa che non devo giocare Che ho stato tutto In automatico Grazie Ok Quindi Fuoco È ancora accesa Qua ci sta ancora Si è aperta Oh mio dio Ok Qui Dovrebbe esserci Penso Perché L'ambiente è questo La videocassetta Purtroppo regano Ma vaffanculo Eh certo Mi sto preoccupando Vogliono Eh È andata via la luce Ok Mi sa che guardo Sto video Play No raga Mi sa che sto video È vero Ok Io pure c'ho brutto i presentimenti Però voglio vedere se Ci possiamo entrare adesso È aperto Raga Mettivo Blair Witch Lo so che non l'ho completato Però Era per dire Ok Si può entrare Ah safe che cazzo vuol dire Una cassaforte Intenti Che vuol dire safe Purtroppo Raga In inglese lo studio solamente Quando ne ho bisogno Sai che è il quadro Eh sì C'è la cassaforte Sì Qui è dove il nostro trinket Lì Apri il safe Grazie E puoi andare A casa E il codice Oh mio dio Ma che cazzo era Ma raga Ma che cazzo era Ok Mi sa che raga Qua non c'è niente Io devo Per cercare quel codice Devo andare Secondo me Ok Come non detto Allora Io ho cercato un po' Dentro la stanza Sinceramente Nessun quadro si muoveva Cioè non si spostava nulla Però Adesso che è comparsa Quell'animazione Io credo Che qualcosa Si è cambiato Bene raga Rieccoci qua Di nuovo Sempre nella stessa puntata E sono passati alcuni giorni Per me Perché non riuscivo a trovare Il codice della cassaforte E per sicurezza Sono andato a vedere Un video su youtube E diciamo Che il codice Stava qua dentro Perché non volevo Diciamo iniziare tutto Diciamo da Da capo O abbandonare il gioco Per questa sciocchezza In pratica raga I numeri stanno qua For seven years Four of them Three months Family of one Quindi il codice sarebbe Sette Quattro Tre Uno Io sinceramente Pensavo che leggere Fosse una cazzata Ma da oggi leggerò Sette Quattro Tre Uno Ok Apriamo sta cassaforte Vediamo che c'è qua dentro Perché giuro che se non c'è Qualcosa di utile Ecco Oh Ma quello che cercavamo Il diamante È veramente costoso Io posso vendere Tutti i nostri problemi Svaniranno È veramente così sicuro Vi ricordo che Dove abbiamo preso la cassetta C'era una persona Che ci aspettava Fuori dal garage È andato nel capanno Perché questa porta Perché questa porta È tipo mezza socchiusa Oh mio dio Oh mio dio Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Ok Oddio Eh 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 Ma dove posso scappare Ma dove cazzo scappa Coglione Non ci sta la via d'uscita Non ci sta nulla Che io posso aprire Levati Mannaggia Guardarobali Guardarobali Eh ma è questo Oh mio dio E ce la farò Secondo voi Non so per quanto Posso resistere Eh Dai raga Per me Pugina dove che arriva Dove che arriva Tutta sta cosa È una gran cazzata Un po' che un confusione Ha ammantato Eh certo Quei non ce n'è Ok Vediamo cosa si fa interessante Oh mio dio C'è qualcuno sopra di noi Non lo so C'è qualcuno sopra di noi Qui c'è il sangue Sì ma Sto qua è lento Ma vuoi correre un pochino Mannaggia Dai Oh mio dio Veloce Veloce che ce l'hai fatto Un altro passettino Bravo Ok Scenite scale E apri sta porta Eh non voglio sapere È meglio Che non lo sa Raga Sto corredore Non mi piace Ci ha fatto un sfataggio Però questo è l'importante Oh mio dio Siete come fanno gli animali Oddio raga È un laberinto È un laberinto Allora Eh per aprire qua Mi sa che serviva il Cacciavite Eh Sì ma aspetta Eh vabbè Lo usa in automatico Vero dimenticato Eh ok Ok Non metto Speriamo che Non si affaccia nessuno Qua a guardare Ok apri qua Eh Guarda bene Eh Siamo un nuovo fusibile Sì sì Correttamente Eh ti pareva Va bene raga Passiamo dai Il gioco si fa interessante Io adoro questo tipo di giochi Mi raccomando raga Lasciate un bel mi piace Per continuarlo Perché veramente Mi piace a bomba Quando è così Ma sai che questo qua Era un pervertito Che teneva le persone Il classico ricone pervertito Oh mio dio Teneva le persone rinchiuse Eeeh Qui c'è un secchio Ma non ci piace Eeeh Che schifo Che schifo Che schifo No no è un altro Ok Penso che qui non ci sta No Ok passiamo Sì 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 E questo va via la corrente qua Ma Dalla corrente là Possiamo sbloccare la porta Veloce dai Veloce veloce Ah Ok Eh sì Io non mi preoccupo Eeeh Raga Che faccio Entriamo Non lo so Ma ci entriamo Ci rinchiude No raga Fa un culo Non ci voglio andare No 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 Ci ho pensato Ma non ci voglio andare Per me Per me era una scelta Ok Eeeh Eeeh Vai Ok Adesso non c'è nessuno Forse dobbiamo spostare Questi scatoloni Non è vero Allora E' che non puoi andare Qui da quest'altra parte Vabbè Non ti interessa Oh Eeeh No Sposta Sposta No raga Ci ha presi Eh mo lo fai No quello ti serve Veramente E' un passato Pervertito Eeeh Oh mio dio C'è l'ho dietro C'è l'ho dietro C'è l'ho dietro C'è l'ho dietro E' dietro 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 Non mi voglio girare Non mi voglio girare Non mi voglio girare Eeeh Non so se l'ho visto Oh mio dio Non mi voglio girare Oh mio dio Oh mio dio Non ci voglio credere Non ci voglio credere Oh mio dio Rega Ma che cazzo Di gioco ho trovato Difficile che ce ne siano così E' veramente bello Io spero che lui Non sia tipo Qua affacciato Vero che non ti affacci Tanto dici Sei in drappola Questo qua ancora si muove Guarda che cazzo di fine ha fatto Oh mio dio Che c'è la porta Non l'avevo vista Sono tipo mezzo ubriaco Non vedo le cose bene Oh mio dio Questo qua si muove Certo Hai perso molto sangue Potresti anche non muoverti però Lo dico per te Se devi morire Mori adesso Che cazzo fai ancora via Ok Oh mio dio Che cazzo Apri di sta cazzo di asce Tanto non ce l'ho dietro C'è cazzo di darti una calmata Eh ma ce l'ho dietro Oh mio dio Ma quanto cazzo corre No mi sa che ho perso tempo Oh mio dio Eh che faccio Eh Sì ma che cazzo faccio La so bloccato Non posso fare nulla Mannaggia Ho pure sbloccato un archivio First time doesn't count La prima volta non conta Cosa la prima volta non conta Che dio sanno ci sono morto Come un coglione Perché tu non mi davi Le giuste istruzioni Perché ci voleva fare Una traduzione in italiano E ho capito E ho capito E tu sbettare di muoverti Ogni cazzo di volta C'è che poi Niente salva Tu muovi E mo ce l'ha C'è capito Ok Mo vuole Diamo bene Sa cazzo di stanza Perché sarò Ok Si lui ti insegue Mo cerchiamo Di non perdere più tempo Ah Ah questo qua Lo farò avvicinare Perché è gas Giusto Allora Normale Tu non devi entrare C'è un motivo Se io giro Quella cazzo di manopola Mannaggia Ecco Un'altra volta Questo cazzo Dice che poi Hey move Must go E tu muori Una buona volta Mannaggia Devo stare vivo là E basta Che cazzo Mi devo andare qua Vero Ok mi inseguo Raga Io non devo avere queste parti Perché Sono belle e consistenti Anche se ci muoio Ogni volta Però Ok E non ce ne sono altre Quindi lui dovrebbe cadere No C'era quella C'era quella Allora Ma se con due non cade Perché con tre Dovebbe cadere Io questa cosa Non riesco a capire A percepire Ok Amore Per te tutte Se tu non ci crepi adesso Io non lo so Ah Dai Cadi Non è com'io Eh mi è scoppiato tutto però No non mi dica Che ci sono morto uguale Vedi che Ho visto che è scoppiato tutto Ah mi ha colpito uguale Non mi ha fatto nulla allora What Raga si è bugato Mi ha detto che è andata bene Avevo superato il checkpoint Eh Ah raga Non c'è senso sta cosa Mi ha fatto andare avanti E poi mi ha fatto morire E mi ha fatto ripartire da qua Ma dai Io non posso bloccare però qua Ore e ore Ma ciò che hai dato Una calmata Ah Ma sinceramente Mi sono un po' costuffato eh Io devo dirla tutta Da qua Mezzo di guarda tipo Sei jackpoint Raga non c'è senso Ok raga Dovevo chiudere lì il lucchetto Eh mo penso Ecco perché prima ci prendeva Dai dai Mo è troppo tardi Devi cadere Eh mo è scoppiato Però com'è che non ci sono morto Tanto per sapere Vedete che esplosione Che ha fatto raga Qui normalo Un cristiano nella vita vera Ci muore Ecco qua Questo era il bug Che mi faceva Ok Ok Dobbiamo arrampicarci alla finestra Dai 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 Oh mio dio È morto sto pervertito Ma guarda sto bastard Oh mio dio Ma dobbiamo andare più Caccia sopra Eh ecco Raga ma sarà sbietto se E se di nuovo addormentato Eh cazzo vuol dire No raga Secondo me ci prende il piede Non ci fa spuggire Raga Io ci sto presente Non è vero Ah vedete che bello fuori La casa che va fuoco Ok Usciamo da qua dentro Dai che è già durata Tanta sta cosa Cioè il genito L'abbiamo preso Penso che Dobbiamo andare via Tipo qui da questa parte Se il nostro compito È sbariggiare Sbariggiare casa Ogni volta Secondo me Ogni casa c'è un pervertito Mamma mia raga Ma no che ci devono fare Tipo Quelli che fanno Le investigazioni Cioè Non ci fanno nulla Ma che ha fatto Il rollback Di tutto quello Che abbiamo fatto Oh mio dio Penso di sì Penso che ci ha analizzato Tutto il gameplay Però non si vede Più piccolino 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 Adesso Penso che continui Giusto Non penso che sia finita così Ok ci ha fatto risvegliare Qua Un'altra volta Ma veramente A secondo piano Oh mio dio Ragazzi Dobbiamo infiltrarci Sinceramente Dobbiamo ci fare Una bella puntata Ed ho guardato Tutto il tappeto Giustamente E cazzo A me non si usa così Ok Abbiamo aperto la porta Adesso Dobbiamo andare Al secondo piano Ovviamente La casa è sempre quella Però non capisco Se siamo indietro Se sto qui Un pervertito Oppure Come andare al secondo piano C'è un po' Se sto ripetendo Sempre la stessa cosa Oppure se Questo qua non ha capito Che i miei pene Esploso Un pervertito Davanti I miei occhi Sono fuggito Per miracolo E lui nonostante ciò E beh che c'era anche Questa porta Allora mi sa che dobbiamo Analizzarla tutta Questa casa Ma a giungere Sto punto Penso di sì Eh Hai ragione Potrebbe essere questa La stanza A cui ci stava La cucina Secondo me Da quest'altra parte Il tagliere È quello di prima La lettera È quella di prima Ok Ah vero Vero Questa è quella Cosa di prima Infatti vedete Che mi ha fatto Per non farmi perdere tempo Me l'ha Me l'ha tolto In automatico Qui sono qua Dicoso Ancora le luci Sennò ci sei anche Se qui vuole lasciarla aperta Secondo me qua Si troverà qualcosa Veramente di Interessante Mmm La diamante è la forza Dice Queste qua sono le scale Ma secondo me Le scale non porteranno A nulla di buono Io te lo voglio dire Si può aprire qua Oddio si può aprire Ma si va giù Ingeramente vorrei chiudere Questa porta Per adesso Il nostro piano Andrà al secondo piano Non spoileriamoci cose Oh mio Dio Raga ma hanno gli occhi bianchi Quadri Oddio raga Hanno gli occhi bianchi Quando non li punto Guardate Che resta bianco Io spero che vedate bene Perché so che la compressione Di YouTube È molto pesante Quindi Lui sarebbe dalla stanza Da letto Dice Bello sto quadro Come va Che cazzo te l'ha fatto L'hai fatto tu Stiamo curiosi di sapere Cosa c'è qua sotto È un cavalletto Posso prendere Macchina fotografica Fotografica Oh mio Dio Vediamo subito Quale è il tasto Quella c'è Bella Posso vedere Attraverso le pareti Bella sta foto Raga Guardate Gli cambia il volto Oddio Ho cambiato tutto Raga Ho fatto fotografia Ho cambiato tutto Oh mio Dio Come se mi trovasse All'interno della filigrana Della foto Non ce la Aspetta Gli devo fare la foto Non mi dico Gli devo fare la foto Sì Oh mio Dio Dove mancare così Devo fare la foto Dovevo dire che era un glitch Però Sì ho capito Che devo andare là Guarda Cerchiamo bene Secondo voi Sì Faccio la foto qua Io lì me la cambia Tipo Vediamo Eh sì Eh sì Oh mio Dio Raga Ma che è sta cosa Regà Ma Perché quella Signora flutua Perché lascio in pace Ci vediamo dopo Dopo dovrò correre Ecco Mi sa che devo andare da te Arrivo eh Perché non può correre Sto cristiano Posso fargli una foto Scomparsa Però non cambia nulla Mamma mia Ah è scomparsa Scomparsa Ma basta che non ce l'ho dietro Però eh Oh mio Dio Quante foto posso fare Questa macchina fotografica Sai che non lo so Qui c'è un altro quadro Che Deve essere cambiato Devo dire che È una foto Veramente molto interessante E vorrei sapere Chi l'ha dipinto Questo quadro Mamma mia Guarda ti dico Questa è dell'altro mondo Io spero che non Zene sia andata qua dentro Salvataggio Quando c'è un salvataggio A me non piace la cosa Posso fare una fotografia qua Oh mio Dio Non lo so È cambiata Mi sa che dovevo fare fotografia Su tutti i quadri Ma sinceramente Non ne vale la pena Qui c'è una Una VHS Che adesso Dovebbe esserci Tornata real È un parato Sarei potere Hai visto Beh doniamo il velo qua Ecco qua Sempre la tv Sempre al solito E mettere la cassetta Qua dentro Accentiamo Vedete che entrò Freeze wait E io aspetto Però veloce Oh mio Dio Che succederà Mi ricordo che quello Che vediamo qua Si avvera nella realtà Tipo la Blair Witch Però Ah qui dove c'era La porta chiusa Prima Che l'ho già fatto Continuare Ok La Porca puttana Oddio Ho sudato freddo Cavoli Però va troppo Lento Oh mio Dio Quanto cazzo Durereà il gameplay Sai che non lo so Andare là Questo non me l'aspettavo Mi ha fatto veramente bene Il gioco Il jumpscare là Non me l'aspettavo Di solito È difficile Che un gioco Con questa convinzione Tipo come Quando fanno i film È la stessa cosa Che non esce sempre bene Ok L'ho andato qua dentro Ovviamente io Cioè lui è scomparso davanti a sta porta Però questa qua è la bedroom Che cercavamo Quindi Sinceramente La porta si è chiusa Lo roggio fa Tic tac Facciamo fotografia qua Vediamo come viene Questa non cambia Mi sa che è finito Quel tipo di Di tempo E che è cambiato Oh mio Dio Ma è cambiato La stanza No Cambiate anche quella Della foto Viene da qua È da qua È là No È questo Perché si muove Oh mio Dio No Facciamo la foto È ricambiato Oh Cavolo È un manichino È troppo tardi Cosa le ha fatto A lui E sai che non lo so Perché non glielo domandi Cazzo lo domandi A me che gli ha fatto Una foto a lui Non cambia nulla Vediamo Se lui cambia adesso Eh sì Ma è cambiata Pezzo di merda Oh raga Qui c'è la forma di una chiave Amo me se l'ho corto Facciamo la fotografia Ecco se compare usciamo dalla porta Prendi qua Chiave Però Dobbiamo far ricomparire la porta Come facciamo a far ricomparire la porta Penso Basta di fare la fotografia qua Ritorniamo indietro No Ha funzionato No non ha funzionato Ah raga Mi sa che la chiave è per aprire il baule Oh mio Dio Oh Una bomba Ah dobbiamo tornare indietro mo Dobbiamo metterla nell'altro manichino Ok mo si fa Molto più interessante la cosa Ah mo è da quella parte Giustamente Cazzo Cazzo Che mo che te l'ho messo Che devo fare Mi sa che L'ho perso il bambino Non posso leggere No 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 Ti sbagli sono innocente Non ho fatto nulla Per favore Questa è la mia che mi serve No non me la vuoi dare niente Te la tieni tu allora Foto Prendi E mo il vetro è rotto Ok Oddio si può fare la foto là pure Cavolo raga Mo lì c'è la porta E lo sapevo Eh ma se non mi fanno salvato Oggi non posso Non posso salvare Non andare avanti a fare foto Scommetto che qua non si apre Eh no non si apre Andiamo in una nuova alla della Che ci faccio qua Pillole Prendo pillole pillole No la torciano la torciano Mi abbandonare per favore C'è qualcuno a destra C'è qualcuno qua C'è qualcuno Non posso nascondere Non posso nascondere No Perché batti qua Ah mi sa che cerca Ah la cerca la manda Che gli ha fatto le corna Raga Oh mio dio L'ha trovato spero Ma è finita A posto Oh che c'è mola Porca puttana Ma veramente Eh non ho capito Che cosa No sto qua Un quadro Oh mio dio raga Fotografia Vediamo cosa esce Eh una menzadonna Sì Quella fegata la donna Oh mio dio Questa qua è l'altra stanza Siamo tutti uguali Tre stanze Leggeramente Oh mio dio Questo qua invece è il paesaggio No il cancello è proprio là Dovemo andarcene Oh Qua si può aprire ovviamente E questa? No raga Si è impruttita la cosa Non so qua Devo problema Aveva Mi sa che prima C'era te che non ti accontenti mai Con il diamante Potevi diventare ricco Andartene Invece È voluto continuare Ma sei una barca Cavolo Ah Quella foto che ci si sta prima No raga l'avete visto tutti Qua invece È troppo curioso di saperlo Cosa cazzo è? Oh mio dio Questo qua è creepy Cavoli Eh mi sa che sono rimasto dentro E mi sa che devo togliere il velo qua Ti prego di me che non c'è nessuno Un altro quadro Eh È mo' lì aperto Cavoli Basta mi prendi spaventi Non ci sono più Brutte sorprese Nella Eh L'interferenza per mancava Oh tutto solo Guardate eh Non c'è più aiuto No raga E ce l'ho qua dietro Senti la tv Magari fanno qualcosa di interessante E ti discoveri C'hanno Questo qua è un pezzo di manichino raga Allora Buonasera Io vorrei dirle che sono felice di vederla Però vorrei dire anche che Mi ha rotto un po' i coglioni La porta si è aperta Io non ho visto fare un salvataggio Un attimo Vediamo ma ne vado Ok Ho fatto qua Ok Amo un salvataggio A favore fammi salvare Il video è durando veramente ore Te l'ho fatta la fotografia Ti sembra che c'ho paura Ma che differenza Che non ci vado da te Ti tenero bene a mente questo Ecco a posto È chiusa Certo che non l'abbiamo chiusa Già abbiamo la chiave E mi sa che dobbiamo andarci L'ho fatto L'ho fatto Ah si spaventa delle foto Se n'è andata Cavoli No raga Non mi posso muovere No è venuta a me Mi ha ucciso Mi ha preso No raga Mi sa che c'è angolati Oh quella cosa Che abbiamo visto nella foto La soffitta E c'era la scala Mi ricordo molto bene Dopo raga Spero che Ti faccia un salvataggio Perché Veramente Sta durando Veramente tanto Non c'è più salvataggi Non c'è più la torcia Prendela da terra Non dimenticarti Ste cose Raga Mi sa che questa qua La possiamo prendere C'è la rotta Si è rotta È rotta Possiamo fare solamente Flash così Cavoli Questa qua è una cosa Che ho visto Un po' che i film horror Sinceramente Credo che è sempre funzionato Deve essere onesto Possiamo salire Cavoli Ok salvataggio Adesso fermi Io spero che il video Vi sia piaciuto Mi raccomando Se è così Lasciate un bel mi piace Fammelo sapere Un commentone qua sotto Fammelo sapere ovviamente Quindi pollicione su Commentate Iscrivetevi al canale Se non l'avete fatto E attivate la campanellina Per non perdervi nessun altro video Ciao a tutti Volpine e Volpina Bella Ciao a tutti Ciao a tutti